5 credenze limitanti che ti fanno fallire nella vita. Le credenze sono delle convinzioni che credi assolutamente vere, di cui sei convinto di avere certezza. Ogni credenza che hai sviluppato nel corso della tua vita ti porta a sentire e ad agire in un determinato modo. Quando le credenze sono limitanti perché ti raccontano qualcosa di negativo su di te, sugli altri o sulla tua vita, queste possono arginare il tuo potenziale e ostacolare il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Dunque, più credenze limitanti hai, più esperienze di insuccesso avrai. Ma quali sono le credenze limitanti? Vediamone alcune tra le più frequenti e prendi nota di quali senti di più nella tua mente. 1. Non sono abbastanza capace, non sono all'altezza, non ci riesco. 2. Gli altri sono più bravi e intelligenti di me. 3. Sono troppo in ritardo, troppo vecchio per cambiare la mia vita. 4. Non mi merito l'affetto e l'amore di nessuno. 5. Le persone sono cattive, non ti puoi fidare di nessuno. Se sei convinto che le cose stiano veramente così, secondo te sperimenterai più successo o fallimento nella tua vita. Ti sentirai spinto ad uscire fuori dalla zona di comfort o eviterai le situazioni di interazione sociale. Quale tra queste o altre credenze senti di più nella tua mente? Scrivimelo nei commenti e seguimi per altri video. In più, se vuoi capire il funzionamento della tua mente e capire come puoi gestire le tue credenze, vai nel link in bio. Grazie a tutti. Grazie.